Ciao da Afsim! È possibile guardare la Serie A e la Champions League con un solo abbonamento? Sembrerebbe di sì, con l'offerta Team Vision con Dazon, per cui con circa 20€ al mese a partire da settembre, quindi gratis fino al 31 agosto, offerta prorogata dal 30 giugno al 31 luglio, quindi c'è un altro mese di tempo per sottoscriverla, si può guardare Dazon e Infinity Plus, quindi con 104 gare di Champions League tolte quelle in esclusiva Amazon Prime Video, che poi comunque sono circa 3-4 euro al mese e li aggiungi facile, e quindi con questa offerta appunto si guarderebbe praticamente tutto, senza contare che Dazon non ha solo l'esclusiva su 380 partite di Serie A, cioè tutta la Serie A, con 3 gare che sono in co-esclusiva con Sky per questo triennio 21-24, ma ha pure la Conference League, l'Europa League e altri campionati esteri, quindi con Dazon, e questo è innegabile, possiamo guardare un sacco di calcio durante tutta la stagione. Il problema, come sapete, è che sono aumentati i prezzi senza che sia stata modificata l'offerta, quindi siamo passati da 19,99 al mese per la stagione 21-22 a 29,99 come minimo, se poi vogliamo la possibilità di usufruire del servizio in contemporanea da due dispositivi differenti collegati a due reti differenti, dobbiamo salire di 10 euro a 39,99. E purtroppo su questa cosa siamo stati trattati veramente da ladri e truffatori da parte dei responsabili di Dazon, che hanno detto che purtroppo il problema, i responsabili anche della Serie A che hanno fatto eco da questo punto di vista, che purtroppo in Italia la gente tende ad approfittarsene. Non si tiene in conto del fatto che c'è un problema di infrastruttura, che ci sono case nelle quali il segnale Wi-Fi non arriva dappertutto e quindi magari uno sta in una parte, uno sta da un'altra e devono star collegati su due reti diverse. Oppure uno che, scusate, Wi-Fi neanche la vuole, vuole fare tutto su mobile con la propria SIM. Perché non potrebbe farlo? Oggi ci sono anche offerte da 300 GB al mese, ce la fai a coprire, a guardare anche tutte le partite che vuoi tranquillamente e quindi uno sta con la propria SIM o col proprio smartphone e un altro sta con un'altra SIM o con un altro smartphone oppure con un tablet. Perché dovrei essere sulla stessa rete per essere automaticamente familiare, convivente, senza stare imbrogliando o essere accusato di imbrogliare. Quindi da questo problema, l'aumento dei prezzi, che poi ci è stato raccontato come una cosa che non avevamo letto bene perché c'era scritto che 19,99 era una promozione annuale, nasce la ricerca di soluzioni. Come fare per guardare di più e pagare meno o per pagare meno guardando le stesse cose? E quindi si parla di questa offerta Team Vision con DAZN. Ve ne parlo perché ho già affrontato l'argomento e anche nella mia community su Discord ne abbiamo parlato e qualcuno mi ha chiesto che ne pensi. Tra l'altro link a Discord in descrizione se volete entrare nel server per partecipare al dibattito con le chat aperte e poi ci sono anche le chat riservate anche suddivise per tematica per gli abbonati a partire da 99 centesimi al mese a questo canale. Quindi se volete un'esperienza di massima condivisione, partecipazione alla mia community, partite da solo 99 centesimi al mese per l'abbonamento e sfruttate tutti i vantaggi. E quindi che cosa ne penso? Ve lo dico cercando di fare un po' un quadro generale della situazione. Intanto l'offerta è come dicevo che fino al 31 agosto la parte relativa alla fruizione dei contenuti, quindi in particolare di DAZN e di Infinity, oltre naturalmente a tutti i contenuti di Team Vision, è gratis. si inizia a pagare dal mese di settembre 19,99 per 12 mesi, poi a partire dal 1 settembre 2023 si passa a 29,99. In realtà l'offerta poi si può anche disdire, quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Prendo i soldi e scappo, tra virgolette, cioè prendo questo servizio, questo abbonamento, per un anno che costa 20 euro al mese, guardo tutto quello che voglio guardare e poi un anno dopo me ne vado. Non è così semplice. Non è così semplice sfruttare questo effettivo risparmio, perché è un risparmio effettivo. Invece di pagare 37 al mese, all'incirca 38, perché Infinity al mese è 7,99, circa 38 euro per la sola visione dei contenuti di calcio, poi devo aggiungere l'abbonamento internet a parte, pago 20. È un risparmio a momenti, pago la metà. Chi se ne frega del resto? Il problema, come dicevo, è la base su cui andare ad agganciare questa offerta, perché Tim scrive anche nell'offerta che c'è un costo di attivazione di 19,99, che è quindi come se fosse un mese in più, e quindi alla fine, per chi sottoscrive questa offerta, adesso, fine giugno, inizio luglio, gli risparmi effettivi di un mese solo, perché 19,99 di costo di attivazione sono uguali a 19,99 di canone mensile, che parte dal primo settembre in sconto a 0 euro fino al 31 agosto, ma se ce li devo comunque mettere è come se pagassi agosto, per intenderci. Con promozione a 9,99 invece, per chi ha già il Team Box, come si chiama, insomma il decoder, il dispositivo per usufruire dei contenuti Team Vision. E quindi già ci avviciniamo ad un bivio, che è quello tra chi ha già Team come Internet Service Provider e chi invece non ce l'ha. Vediamo chi ce l'ha. Chi ce l'ha probabilmente avrà Team da un po' di tempo, magari da anni, quindi non ha più vincoli, vincoli, oppure se c'erano, sono stati superati, oppure non ci sono mai stati, non ha più costi extra, magari ha anche già questo Team Box e quindi si tratta soltanto di andare effettivamente ad avvantaggiarsi di uno sconto. Io personalmente a chi ha Team lo consiglio pure, se non l'ha già fatto, di sottoscrivere questa offerta. Ah, a proposito, io non ho Team e non ci guadagno nulla a parte, né a dirvi fatevi Team, fatevi da solo, né a dirvi non fatevi Team e fate la disdetta da zone. Ecco, l'unico problema a quanto pare è che però, per usufruire di questa offerta, è necessario preventivamente fare la disdetta da zone e ricominciare da capo. Poi dobbiamo parlare anche del perché Team propone questo tipo di offerte, che cosa c'è dietro, anche a livello di accordi commerciali. Quindi dice, ai Team, cioè ce l'hai già l'abbonamento come Internet Service Provider, quindi come fornitore di servizio Internet, come abbonamento, diciamo, telefonico fibra, e quindi alla fine vai ad aggiungere effettivamente solo questi 20 euro al mese da settembre, in più ce ne metti 10 quest'estate che guardicchi qualcosa perché poi si parte più o meno da metà agosto, quindi tutto sommato ci sta. Paghi effettivamente quello che guardi, però con lo sconto, perfetto. Dove devo firmare? Devo aggiungere solo Prime Video a parte, che però è visibile anche come pure Netflix, c'è anche poi l'offerta Gold con Disney+, che però essendo extra calcio non ve ne parlo, tutti quanti visibili attraverso Team Vision, cioè tutti all'interno dello stesso decoder sistema, potete vedere tutte quante queste app, e quindi basta essere abbonati per vedere tutto in un unico posto, molto comodamente, risparmiando. Il problema è per chi non ha Team, oppure per chi comunque deve sottoscrivere una nuova offerta Team adesso, che parta adesso. In realtà c'è da dire questo, che Team non dice devi essere per forza abbonato Team per poter usufruire di questa offerta, quindi grazie Team per la gentilezza e per la generosità. Cioè puoi essere anche abbonato con un altro servizio, con un altro operatore. Ecco, il problema però è che io non credo sinceramente che a Team interessi regalare sconti su DAZN. Nel momento in cui ci dicono potete usufruire dell'offerta anche con un altro operatore, dicono la verità, però poi bisogna vedere se nella pratica possono verificarsi dei disservizi. Attenzione, non sto dicendo che Team in maniera scorretta di propria scelta, diciamo in mala fede, va a creare dei disservizi. Dico che ci possono essere perché funziona anche un po' che su una stessa rete ecco le cose vanno meglio. E comunque l'interesse di Team non è certo quello, ripeto, di regalare sconti, ma è di avere maggiori abbonati. Ma non per DAZN, per loro, per Team Vision e per Team. Perché facciamo questo piccolo passaggio e poi andiamo a concludere sull'altra strada di questo bivio, cioè chi non ha Team e vuole questa offerta Team Vision. Come sapete, Team ha un accordo da 340 milioni l'anno per tre stagioni da pagare a DAZN per questo abbinamento di servizi. Cioè DAZN intanto è stato in grado di pagare effettivamente, diciamo, di offrire, di acquistare i diritti TV della Serie A per questo triennio 21-24 in quanto ha potuto sfruttare la leva della collaborazione con Team. Che però, ecco, ci sono degli attriti perché come sapete Team ha chiesto adesso di rivedere questa offerta, di pagare meno di 340 milioni, quindi di modificare la situazione e poi c'è anche un'istruttoria antitrust che, notizia di queste ore, doveva essere conclusa questo prossimo 30 giugno ed è invece slittata alla primavera 2023. Quindi per il momento, tra l'altro, non sappiamo neanche se questa offerta di abbinamento, di abbonamenti è lesiva della concorrenza. Lo si vedrà nel 2023. Ma appunto, se Team paga DAZN, paga per quale motivo? Per poter offrire questi sconti? Team paga e poi la differenza, tra virgolette, la distribuisce tra di noi, tra tutti gli utenti che vogliono sottoscrivere offrendo quindi questo risparmio. Ma è chiaro che non avrebbe senso. Io pago DAZN per offrire un risparmio che poi io ci devo andare a rimettere, cioè quei 340 milioni o quello che sarà, Team li deve recuperare da un'altra parte e cioè li deve recuperare facendo abbonati, è naturale. È naturale che li debba recuperare così perché se offre lo sconto significa che ci va a rimettere e parliamo di milioni, cioè non è uno scherzo, non è che offre una cena caffè pagato a tutti, vabbè, chi se ne frega, che saranno 20 euro, 30 euro a seconda di quanta gente c'è. No, parliamo di milioni, quindi è chiaro che Team ci deve rientrare. Come ci rientra? Ci rientra col fatto che se volete star tranquilli che funzioni tutto, star tranquilli che sicuramente funzioni tutto, perché poi non è neanche detto che sia Team a farvi la ripicca, magari il vostro operatore che vede che siete agganciati a Team Vision e dice no, non mi sta bene, dico una cosa assurda, magari non funziona realmente così, ma perché rischiare? Se volete stare sicuri che funzioni tutto bene, vi fate anche l'abbonamento a Team. Come funziona l'abbonamento a Team in questo periodo? Che pagate o 25-24,99 o 30-29,99 al mese a seconda dell'offerta che fate, poi in questo periodo ci sono delle promozioni, si parte pagando subito per altre promozioni invece non si paga per qualche settimana, ma in questi costi sono inclusi 5 euro nell'offerta da 29,99 5 euro al mese per 48 mesi per il decoder, per il modem, per il modem router, mentre sia nell'offerta da 24,99 che in quella da 29,99 sono inclusi 10 euro di costo di attivazione al mese per 24 mesi, cioè sono 240 euro per il modem più 240 euro di costo di attivazione in cui è compreso anche un minimo di assistenza. Ma attenzione perché c'è scritto che se fate la disdetta prima dei 24 mesi ma anche prima dei 48 l'importo residuo lo dovete pagare comunque, cioè voi dovete mettere a bilancio come costo 240 euro non si scappa non è che siete vincolati potete anche recedere prima ma dovete pagare la differenza e anche per il modem dovete arrivare a 240 euro a meno che non lo restituiate integro e privo di difetti e là vi voglio cioè dovete star lì col pensiero tutti i giorni che mamma mia se graffio il modem mamma mia se cade un attimo dalla mensola come farò devo pagare 100 150 quello che sia di residuo capite lo sconto io non lo percepisco per chi deve ancora fare l'abbonamento team per chi non è già team io lo sconto non lo vedo perché si risparmi 10 euro al mese però poi ce li devi mettere e per questo dicevo che non vale il discorso prendi soldi e scappo faccio l'offerta per un anno e poi a settembre 2023 che si paga di più chi si è visto si è visto no perché poi che fai togli anche team nel frattempo è chiaro che sono due cose diverse sono due cose diverse però ecco quei 10 euro che risparmi ora comunque i 10 euro che risparmi ora ce li rimetterai potresti rimetterceli perché li devi pagare comunque sono 480 euro totali in 4 anni 480 euro in 4 anni cioè 5 euro al mese più 10 euro al mese sono 15 euro al mese per 2 anni e 5 euro al mese per gli altri 2 anni e quindi il risparmio effettivo dove sta dice ma se io faccio un altro operatore comunque pago quei 25 27 30 euro al mese però ci sono condizioni diverse cioè il discorso è che tu adesso paghi 25 paghi 30 poi se disdici dovresti pagare 0 e invece no se disdici devi continuare a pagare 15 euro al mese e poi 5 euro al mese con un altro operatore questo non succede capito qual è il discorso molto semplice loro lo chiamano costo di attivazione ma in realtà non è un vero e proprio costo di attivazione è a titolo di costo di attivazione spalmato su 24 mesi ma capite che ha evidentemente un'altra funzione e quindi io vi dico proprio come utente spassionatamente ripeto non ho nessun tipo di rapporto con team né con DAZON se non da cliente eventuale o passato quindi non mi interessa nulla vi dico avete già team vedete che il vostro contratto vi soddisfa non avete particolari piccoli ok vi conviene magari fate team vision con DAZON per un anno a soli 20 euro al mese guardate tutto beati voi per chi invece dovrebbe sottoscrivere nel caso l'abbonamento anche come operatore team perché non si fida ad avere team vision con l'operatore attuale io sinceramente non ve lo consiglio dice ma come faccio pagate 38 euro come tutti gli altri cioè 30 di DAZON più i 7 di Infinity o magari avete anche Sky Infinity tra l'altro l'anno scorso offriva l'abbonamento 12 mesi che si risparmiava qualcosina veniva sui 5 5,50 al mese effettivamente e si va avanti così più insomma sotto 40 euro più o meno ciò dovremmo fare tutti 40 al mese più l'abbonamento a internet in realtà ci sarebbe un altro modo che è assolutamente legale che è tramite una VPN continuare a pagare DAZON da cliente italiano ma utilizzare una VPN con IP tedesco per collegarsi al proprio account DAZON italiano per guardare le partite di Champions League perché quello non ve lo possono vietare perché nell'ambito dello spazio economico europeo tutti i cittadini e gli utenti hanno il diritto alla portabilità internazionale cioè è vero che voi utilizzate una VPN ma è come se aveste preso l'aereo e foste andati o il treno e foste andati un attimo dall'Italia alla Germania solo per guardare quella partita con DAZON pagato dall'Italia quello non ve lo possono impedire quindi in realtà non con 20 euro ma con 30 29,99 al mese si può già guardare tutta la serie A e tutta la Champions League anzi 104 partite di Champions League e lì quindi invece di risparmiare su Team o su DAZON vai a risparmiare su Infinity che non serve teoricamente perché la Champions la guardi su DAZON così come tutto il resto e la serie A dall'Italia con IP italiano anche senza VPN questo è un tip finale che vi lascio chi vorrà eventualmente sperimentare questa modalità assolutamente legale anche nel pieno rispetto nel pieno rispetto delle condizioni generali di utilizzo di DAZON quindi non violate veramente nulla potete provarci e provare a risparmiare 7-8 euro non è tanta roba al mese ma comunque non è nulla cioè almeno è qualche cosa per la prossima stagione per poter guardare comunque sia la serie A che la Champions League grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti tra operatore telefonico fibra FTTH FTTC DAZON OTT tutte queste cose che ci fanno impazzire e soprattutto ci ispirano un bel po' di soldi like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video anche su questo argomento ma soprattutto sul calcio e sulle partite che poi realmente guarderemo la prossima stagione 22-23 e intanto come già detto abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per sfruttare tanti vantaggi ci vediamo molto presto e sempre forza Juve